Causa incidente stradale e ai carabinieri intervenuti per i rilievi dichiara di aver perso la patente. In realtà il permesso di guida gli era stato revocato dalla prefettura del VCO nell'ottobre del 2023 perché sorpreso alla guida della sua autovettura nonostante il mezzo fosse sottoposto a sequestro perché privo di assicurazione. Ad accorgersi del fatto sono stati i carabinieri di Premeno che hanno denunciato l'uomo, un 46enne della zona, per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali. È successo sulle colline verbanesi nelle scorse settimane. I militari, dopo essere intervenuti sul luogo del sinistro, che peraltro ha riportato pure feriti, hanno chiesto i documenti di guida dei veicoli alle persone coinvolte, tra cui il conducente del furgoncino. È in quel momento che l'uomo, per la prima volta, ha dichiarato di non trovare più la patente di guida. I carabinieri gli hanno intimato di portarla presso un ufficio di pulizia. Nel frattempo l'uomo era stato convocato in caserma per la notifica del verbale relativa al sinistro stradale. Nell'occasione gli è stato rinnovato l'invito ad esibire la patente. L'uomo ha riconfermato di averla persa e ha formalizzato la denuncia. Peccato che ad ulteriori approfondimenti dei militari la verità sia emersa. Davanti all'insistenza dell'automobilista nel ribadire che la patente era stata persa durante l'incidente, i carabinieri gli hanno contestato non solo la violazione per la guida con patente revocata, ma anche la denuncia in stato di libertà per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale.